Sempre e di più, lo dice la cronaca degli ultimi mesi, i casi di aggressione al personale medico. A Roma, all'ospedale San Camillo Forlanini, questa mattina, l'inaugurazione di una stazione operativa H24 di polizia. Alla presenza del ministro Piantedosi, lo ascoltiamo. Gli ospedali hanno cambiato natura un po' nel tempo. Non sono solo luoghi di cura, ma sono anche luoghi di crocevia, di fragilità, di emarginazione, alcune sensibilità sociali che si stanno sempre più addensando nella nostra società. Per cui c'era il doveroso riguardo alla protezione degli operatori sanitari, che fanno una professione che dobbiamo tutelare, ma è anche nostro interesse essere presenti in forza qui e lo faremo con questo programma del governo di progressivo rafforzamento. E' anche nostro interesse perché qui si concentrano alcuni problemi di carattere sociale che hanno molto a che fare con il nostro interesse alla prevenzione.